Classica, il Corriere della Sera per l'opera dai grandi teatri del mondo. Ciao Jacopo. Ciao Silvia. A che numero siamo arrivati? A la sesta. Numero 6, numero 6 in tutte le edicole. A partire da martedì 11 ottobre, la traviata di Giuseppe Verdi. Titolo immortale? Dal teatro Reggio di Parma. Dal teatro Reggio di Parma. Ma quindi ritorniamo in Italia e siamo un po' nelle terre verdiane, quasi in casa. Siamo sì nelle terre verdiane, di busseto, comunque di vicino. Lì vicino a Parma, anche se lui non amava tanto Parma. Non tantissimo. Però siamo nelle sue zone. Infatti questa traviata di cui oggi vi parliamo fu allestita nel 2007 e fu messa in scena per il Festival Verdi. Ricorre? Ricorre. Nel mese di ottobre, per cui siamo puntuali, anche se è un'edizione del 2007, però ci siamo. Ottobre, ottobre. Direzione Yuri Temirkanov, la regia dei coniugi Herman. Ecco, la traviata è un titolo immortale, conosciutissimo, amatissimo, forse è tra i più amati di Giuseppe Verdi. E quando si mette in scena un'opera amata si corre sempre il rischio, perché le polemiche sono sempre feroci. Le polemiche sono sempre feroci, perché poi ognuno si riferisce a una qualche edizione precedente. Qui per esempio a Milano c'è tutta questa grandissima leggenda, tradizione legata alla traviata della Callas. A fare queste opere rifatte tantissime volte si rischia sempre sconfitti dai confronti. Esatto, sono un po' sconfitti dai confronti. Violetta, diciamolo, è il ruolo che regge l'intera opera, è una etrina alla fine, perché nei tre atti diciamo che viene impersonificata con l'amore, il sacrificio e poi la morte finale. Sono tre atti in cui appunto il soprano interpretato qui da Svetla, Vassilieva, deve veramente dare sfoggio di una capacità vocale, anche di duttilità vocale, perché avrà diversi registri ed è un ruolo oltre che scenicamente molto impegnativo, soprattutto vocalmente, ed è il ruolo che regge l'opera, come dicevo. Di questa edizione però, la regia dei coniugi Herman, come vi dicevo, è molto interessante perché è tradizionale, per cui non troverete cose strane, non troverete, diciamo così, ammodernamenti o l'opera non viene calata nella contemporaneità. Siamo a metà ottocento, come era il romanzo. A Reggio sono usi ammodernare? A Reggio forse no, però qualcosa in questo senso ce lo si può aspettare, anche dal Reggio di Parma, anche se di la tradizione. Sì, è la tradizione. La cosa padrona. Però, oltre tutto questo, io quello che vi voglio suggerire di ascoltare con particolare attenzione, io amo molto la direzione, cioè capire come un direttore d'orchestra poi agisce all'interno di un'opera lirica, è la direzione di Temir Kanov, che non è così uso a dirigere l'opera. Lui è un grande direttore sinfonico, però quando si mette a dirigere l'opera, diciamo che ha una profondità e un livello di lettura che è in grado di sorprendere sempre l'ascoltatore. Quindi lasciatevi sorprendere da questa attraviata diretta da Yuri Temir Kanov. Ti lascerai sorprendere? A me, ben volentieri. Bene, quindi vai in edicola, l'hai già prenotato il tuo numero? Certamente. Benissimo. Senti, Reggio di Parma, dicevi prima la tradizione. Reggio di Parma che è il teatro che è voluto da Maria Luisa d'Austria, che è la seconda moglie di Napoleone, che viene dopo il congresso di Vienna, viene piazzata come duchessa di Parma e Piacenza e rimane lì dal 1816 al 1847 ed è di fatto la duchessa di Verdi, perché quelli sono gli anni in cui Verdi nasce e cresce nel ducato di Parma. Ed è quella che rende anche grande, internazionale quasi, Parma come città. Sì, 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 esattamente. Tu sai che nel Reggio di Parma c'è stata una prima di un'opera verdiana. Oddio, questa non la so. La Giovanna de Guzman. Oh mamma mia, no, non lo sapevo. Che tu mi insegni è l'edizione italiana dei Vespri siciliani. Caspita. Tradotta e anche un po' modificata, perché loro non potevano fare i Vespri così, una rivolta in Italia, in quell'Italia lì. Per cui riambientano tutti in Portogallo. Ma questo è un passaggio che si ricollega alla nostra traviata, perché anche la traviata, la volta che la fanno a Parma, come si chiama? Come la intitolano? Violetta. Come il telefilm, uno potrebbe dire. Perché comunque molto spesso le opere di Verdi venivano modificate per motivi di censura. E a maggior ragione una come la traviata, l'unica opera che lui scrisse cercando di un'ambientazione contemporanea. Sì, un po' Venezia. Cueva, diciamo. Esatto, però a Venezia quando andò in scena fu proprio questo elemento di contemporaneità, che non stava bene alla borghesia del tempo. E' uno dei punti su cui battagliò di più, insomma. Esatto, infatti la prima poi non andò neanche tantissimo bene. E poi è diventata il successo che noi adesso tutti apprezziamo. Al punto da? Pubblicare questa edizione. Quindi io vi ricordo, tutti in edicola, da martedì 11 ottobre, la traviata dal Festival Verdi di Parma, edizione 2007, direzione Juritemirkanov per la regia dei coniugi Herman. Mi raccomando, non bucare questo titolo perché nella sua videoteca non può mancare. Ricca videoteca verdiana.